È un attentato al patrimonio immobiliare degli italiani. Esistono al Parlamento europeo due proposte che hanno come obiettivo quello di rendere possibili gli affitti e le vendite soltanto agli immobili in classe energetica E. Il 60% degli immobili italiani è nella classe energetica G o F. Ciò significa che se la proposta europea dovesse passare tutti questi immobili sarebbero fuori mercato. Non potrebbero essere né affittati né venduti. Sarebbe il grande reset di una delle ricchezze degli italiani. In una parola, impoverimento generalizzato del popolo italiano. Avete fatto l'eco bonus, rifatto il cappotto termico al vostro palazzo? Pensate di essere a posto? Neanche per sogno, perché entro il 2025 Bruxelles vuole cambiare i criteri per accedere alle classi energetiche e renderli più stringenti. Spetta al popolo italiano intervenire e tutelare la sua ricchezza. Al prossimo episodio Grazie a tutti